Un ragazzo di 20 anni è morto e due coetanei sono ricoverati in gravi condizioni per lo schianto dell'auto sulla quale viaggiavano insieme poco dopo la mezzanotte sulla statale Regina a San Siro. Il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. Dalle prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente, anche se la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di menaggio intervenuti per i rilievi. I tre amici, secondo i primi accertamenti, viaggiavano sulla Regina a bordo di una BMW 320 da Adongo verso Menaggio, all'altezza di una curva, all'ingresso dell'abitato di Acquaseria. Il conducente della vettura, un 21enne di Borlezza, avrebbe perso il controllo della macchina per cause ancora da chiarire, andando a sbattere contro alcuni garage all'autostrada. Un impatto violentissimo. Ad avere le conseguenze peggiori, il ragazzo che era seduto sul sedile posteriore, Mattia Pretti, un ventenne di Gravedone ed Uniti. Per liberarlo dalle lamiere della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, nonostante i soccorsi però, per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare, è morto sul colpo nell'impatto. A San Siro sono intervenute l'automedica del 118 e due ambulanze ed è stato chiesto anche l'invio dell'elisoccorso. Il conducente e l'altro passeggero, un ventenne di Grandole ed Uniti, sono stati trasportati, uno all'ospedale di Circolo di Varese e uno nel presidio di Gravedone ed Uniti, in gravi condizioni. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Dopo l'impatto, una ruota dell'auto è volata decine di metri di distanza, andando a sfiorare un motociclista che arrivava in quel momento e che è riuscito a evitare l'impatto. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dello schianto, informata anche la procura di Como con il pubblico ministero Antonio Nalesso. L'auto è stata sequestrata e sul corpo della giovane vittima sarà effettuata l'autopsia. Sconcerto e dolore a Grandole ed Uniti, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Una gravissima tragedia ha colpito la nostra comunità, scrive il sindaco Giancarlo Gianfanti. La famiglia è distrutta dal dolore, come pure i parenti e l'intera comunità grandolese. Non è facile trovare le parole adatte per infondere coraggio, per consolare i genitori e tutti i parenti e per rasserenare gli animi. In questo momento di dolore immenso mi sento in dovere di esprimere la mia vicinanza e quella di tutto il consiglio comunale a mamma Rita, a papà Massimo e al fratello gemello Filippo, nonché agli zii e ai cugini.